Comunque ti propongo questa lista dei ministri potenziali che mi offrono i nostri franzi. Ci vuole un paese serio, ci vuole standing. Che succede secondo te con Ministro degli Interni Cavaliere Vincenzo Spadalino, Ministro della Difesa Generale Antonio Papalardo, Ministro della Salute Roberto Petrella, Ministro Pari Opportunità Efe Ball, Ministro del Lavoro Pasquale Lino Marmo, Ministro per il Sud Rider di Bologna, Ministro dell'Istruzione Giuseppe Ricci, Ministro per le Disabilità, non so perché Maurizio Scadurra, Ministro della Giustizia Commissario Pino, Ministro degli Affari Estri Legionario e Bologna. e via discorrendo. Maurizio, provincia di Latina, vai!